Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Una forte eruzione artica sta rapidamente attraversando l'Europa centrale e si dirige sull'Italia, dove porterà un po' di maltempo ma soprattutto intensi venti di tramontana mestrale con rafiche a tratti tempestose oltre i 90 km orari. Questa perturbazione nel corso di questo martedì si porterà al sud e pertanto al centro. Sull'Abruzzo avremo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo cieli sereni su gran parte della regione ad eccezione dei settori meridionali dell'Apennino dove avremo qualche residuo di densamento, specie al mattino però con fenomeni quasi del tutto inesistenti. Qualche nuve in più ritornerà in serata con qualche isolata piovigine, comunque qualche fiocco di neve in Apennino oltre i 600 metri di quota ma davvero nulla di rilevante. Dal punto di vista termico massime in calo rispetto ai giorni scorsi, valori tra i 6 e gli 11 gradi, piuttosto freddo di notte all'alba e anche in serata. I venti ancora forti a tratti di burrasca, specie al mattino e al pomeriggio con raffiche a oltre i 70 km orari. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Grazie per aver guardato il video.